In questo video vedremo la LIM come strumento più da vicino. Allora, innanzitutto vediamo che la LIM è una normale periferica di output, output vale a dire uscita video, che richiede per lo più un computer e un proiettore. Un computer può essere qualunque, un portatile, un computer fisso, naturalmente, può essere con sistema operativo Windows, può essere con sistema operativo Mac o Linux. Deve essere collegato naturalmente al proiettore, il quale a sua volta, come si vede da questa immagine, è collegato alla LIM. Può essere utilizzata con delle penne apposite oppure in alcuni modelli, persino con le mani. Sono più che altro modelli di una importante ditta, che è la Smartboard, la quale da sempre produce LIM full touch, vale a dire che possono essere pilotate semplicemente con l'uso della mano. Più di recente, con la diffusione dei dispositivi mobili, le principali ditte produttrici di hardware e software hanno anche diffuso delle applicazioni con le quali è possibile pilotare la LIM da strumenti mobili, come per esempio da un tablet o da uno smartphone. Risultano utili questi strumenti soltanto in alcune circostanze, risultano invece relativamente più scomodi nel momento in cui si vogliono produrre dei contenuti. In tal caso, il software autore da installare nel proprio computer per la gestione della LIM risulta essere più funzionale, più completo per creare e gestire lezioni. Nel momento però in cui si vuole soltanto pilotare la LIM, allora uno smartphone o meglio ancora un tablet, vista le dimensioni, può risultare abbastanza utile. Una cosa importante, molto spesso i docenti dicono non so usare la LIM. In realtà la LIM non è uno strumento che richiede un uso specifico, è una periferica di output, quindi tutto ciò che facciamo seduti di fronte al nostro computer con il mouse in mano è esattamente quello che facciamo in piedi davanti a una LIM con una penna o con le mani che interagiscono con la superficie. Naturalmente è chiaro, lavorare di fronte a un monitor da 15-20 pollici con un mouse in mano è diverso che stare in piedi di fronte a una superficie interattiva di 80 pollici, però tutto ciò che facciamo con il computer tramite il mouse, per esempio l'uso di PowerPoint, per esempio i video, per esempio internet, è esattamente quello che faremmo dinanzi alla LIM. La differenza quindi è più che altro di natura logistica, si tratta cioè di abituarsi agli spazi e abituarsi per esempio a un altro aspetto, vale a dire che di fronte a una superficie così grande, così vicini, non si riescono a vedere all'inizio tutti i menu, ma solo dopo qualche esperimento si potrà capire come usare la LIM è essenzialmente identico all'uso che si ha nel proprio computer. Quindi è più che altro un discorso di abitudine, non è possibile pensare che non si riesca a usare la LIM. Chi ha difficoltà della LIM evidentemente sta dicendo altro, sta dicendo cioè di avere delle difficoltà comprensibili e peraltro superabili con il computer, magari con il software autore, il quale peraltro è in genere molto semplice da usare. Active Inspire somiglia infatti per certi aspetti a PowerPoint, per altri aspetti allo stesso Paint o a programmi semplici di grafica. Quindi la nostra conclusione è questa, nessuno può dire di non essere capace di usare la LIM. Tutti possiamo avere delle difficoltà a usare il computer, ma usare la LIM significa usare il computer. Semplicemente stiamo in piedi e abbiamo uno strumento in mano col quale pilotare la nostra periferica di output, che è appunto la lavagna interattiva multimediale. Grazie a tutti.